Sono Maela Gioffre, sono docente dell'Università di Torino, del Dipartimento di Economia e Statistica e sono qui appunto a moderare questo dialogo. Vi chiedo soltanto all'inizio di voler compilare il questionario, basta che voi inquadriate questo QR code e così ci consentirà anche per le prossime edizioni di fornire un servizio ancora migliore. Grazie. Allora, siamo qui oggi a parlare di criptovalute. Sono onorata di moderare questo dialogo, questa sessione, perché abbiamo come relatori due illustri esponenti dell'Accademia da un lato e delle istituzioni dall'altro. Abbiamo il professor Roberto Perotti, economista di fama mondiale dell'Università Bocconi di Torino e Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d'Italia, che ha ricoperto prima di approdare in Banca d'Italia ruoli apicali nel sistema finanziario, diciamo, nel settore privato. Allora, ovviamente non posso stare qui a declamare i loro CV per intero, quindi sarò molto stringata. Quindi per punti, Roberto Perotti, professore ordinario di Economia Politica dell'Università Bocconi, ha conseguito il PhD in Economics all'MIT, ha insegnato alla Columbia University, dove ha conseguito la cattedra a vita, è il Research Fellow di prestigiose accademie e network internazionali, quali il CPR e Research Associate dell'MBR, è autore di numerosi contributi scientifico-accademici pubblicati sulle più prestigiose riviste accademiche internazionali, ed è stato anche co-direttore del Journal of the European Economic Association. I suoi interessi accademico-scientifici in qualche modo riguardano l'area macroeconomica, ovviamente, e in particolare l'economia monetaria, la politica monetaria, quelli che sono gli effetti delle politiche di bilancio sulle grandezze macroeconomiche. Oltre ad aver messo a disposizione le proprie competenze, dal servizio di istituzioni importanti, economiche, politiche, a livello nazionale e internazionale, è anche molto attivo nella comunicazione, nella divulgazione scientifica, e quindi si fa un po' veicolo, se vogliamo, di educazione economico-finanziaria. In particolare è editorialista del quotidiano La Repubblica, e se avrete probabilmente seguito il dibattito in corso sulle criptovalute, e quindi avrete letto alcuni dei suoi editoriali scritti a doppia firma con Tito Boeri. Alessandra Perrazzelli è invece membro del direttorio e vice direttrice generale della Banca d'Italia, in tale veste è anche membro del direttorio integrato dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è membro del Supervisory Board, del Single Supervisory Mechanism della Banca Centrale Europea, ha conseguito un Master of Law in diritto societario presso la New York University School of Law, è alunna della Business School dell'Università di Stanford, e ha iniziato la sua carriera come avvocato in grandi studi di New York e Bruxelles, e ha operato nel campo del diritto bancario, dei servizi finanziari e delle public utilities. Ha lavorato in Intesa San Paolo a capo della regolamentazione istituzionale, come AD di Intesa San Paolo Eurodesk, ed è membro dell'Advisory Board dell'Osservatorio FinTech ed InsureTech del Politecnico di Milano, precedentemente è stata anche Country Manager di Barclays Bank in Italia. È stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, e riesce a coniugare tutta la sua attività lavorativa istituzionale anche all'impegno civico, al servizio di istanze politiche e sociali, ad esempio in Italia è stata fondatrice, presidente di Valore D, che è un'associazione di imprese che in qualche modo è volta a sostenere il posizionamento delle donne ai vertici delle aziende. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a favore di istanze legate all'inclusione e alla diversità, in particolare più legato a quello che sarà l'argomento del dibattito di oggi, per aver promosso l'innovazione tecnologica nell'industria finanziaria. Quindi questo è il profilo dei nostri due relatori, quindi siamo fortunati ad avere due eccellenze italiane che ci aiuteranno a capire un fenomeno come quello delle criptovalute che è complesso, e quindi ha bisogno necessariamente di essere analizzato attraverso un approccio multidisciplinare, quindi ha bisogno di essere analizzato dal punto di vista sì tecnologico, ma anche economico e giuridico, e quindi cercheremo appunto di analizzarlo sotto la lente della teoria economica e anche della regolamentazione giuridica. Il titolo è a che cosa servono le criptovalute, quindi noi sappiamo che arriviamo da un anno, il 2022 è stato l'anno sorribile, se vogliamo, del mondo delle criptovalute, il bitcoin ha perso il 75% del suo valore, quindi gli esperti e non solo si stanno interrogando sul fatto che effettivamente questo mondo sia guidato dall'innovazione tecnologica, sia quasi una sorta di truffa mascherata da innovazione tecnologica, alcuni hanno già decretato che in qualche modo la bolla è scoppiata e che quindi questo sistema si sia concluso, altri invece dicono che in realtà la discontinuità che ha creato questa innovazione rimarrà nei mercati finanziari e che anzi avrà un ruolo sempre maggiore nei sistemi di pagamento, in particolare la tecnologia sottostante. Ovviamente un prerequisito per capire a cosa servono le criptovalute è capire che cosa sono le criptovalute e quindi dobbiamo un po' fare un passo indietro, cerchiamo di capire che cosa sono, quindi cripto viene, lo sappiamo, dal mondo tecnologico e quindi dice qualcosa sul modo in cui sono estratte queste valute, ma la parola valuta per noi vuol dire qualcosa di specifico. Quando insegniamo ai nostri studenti noi diciamo che la moneta è uno strumento non specifico, che deve assolvere a funzioni specifiche, quindi deve avere tre funzioni, deve essere mezzo di scambio, deve essere unità di conto e deve essere riserva di valore. Quindi noi ci chiediamo intanto oggi se il termine criptovaluta è appropriato a definire questo tipo di strumento che andremo ad analizzare. Quindi appunto le parole sono importanti, allora siamo qui un po' a capire se i termini che utilizziamo li utilizziamo in modo corretto, se invece è necessario ridefinirli. Quindi chiederei in questa situazione specifica, dato che è un'istanza prima di tutto giuridica se vogliamo, ad Alessandra Perazzelli, la vice direttrice, di inquadrare in qualche modo la tassonomia del mondo cripto per aiutarci a creare i fondamenti per la discussione. Grazie, grazie. Sono molto contenta di essere qui a parlare di questa cosa perché è un tema sul quale si legge molto, si fa una certa confusione, si parla di valuta quando in realtà non si tratta di valuta, ma come ricordavi ci sono, ecco, diciamo diversi strumenti e funzioni diverse. Quindi innanzitutto le cripto noi le chiamiamo attività, non si tratta di valuta, la valuta come tu dicevi giustamente assolve a tutta una serie di fondamentali che non vengono invece ritrovati nell'ambito del mondo cripto. Esiste poi enorme ancora nel nostro paese il mondo del cash, il cash è ancora uno strumento utilizzato nelle transazioni giornaliere. C'è stata una leggera diminuzione nell'uso del cash durante la pandemia, però diciamo che i valori si stanno mantenendo abbastanza costanti in questo ultimo anno. Esiste poi tutto il mondo delle stable coins, le stable coins hanno una natura diversa dalle criptoattività, le vedremo, e quello poi dei pagamenti elettronici sono quelli che noi compiamo ogni giorno con le carte, che molto presto compieremo attraverso l'uso di un QR code che ci permette sostanzialmente di bypassare anche l'uso delle carte di credito di debito e questo è un futuro vicino. E poi c'è tutto il mondo invece delle valute digitali, come l'euro digitale al quale stiamo lavorando, e che vedete essere sviluppato anche in altre regioni del mondo, e che assume un carattere direi anche venato politicamente, perché naturalmente si rifà alla capacità di diverse regioni del mondo di poter utilizzare la propria moneta digitalmente ed imporla anche nel resto del Paese. Partiamo subito da questo. L'euro digitale è in questa fase un progetto estremamente avanzato, ma ancora in una fase prima della creazione di un prototipo. È uno sforzo che viene compiuto a livello di eurosistema e quindi la Banca d'Italia che appunto io rappresento è una delle banche centrali che sta portando avanti questa sperimentazione e siamo adesso in una fase nella quale dobbiamo, e questo avverrà il prossimo autunno, decidere se i Paesi dell'eurosistema, quindi il Council che governa la BCE vuole fare questo passo avanti. Ecco, l'euro digitale, questa è una cosa importante da dire, non andrà a sostituire il cash, ma si affiancherà ad esso. Quindi noi ci troveremo in un futuro che non è lontanissimo ad avere, quando facciamo una transazione in un negozio, quando vogliamo acquistare qualcosa, diverse possibilità. Potremo sempre pagare col cash, potremo pagare con l'euro digitale, con un nostro wallet nel quale noi facciamo, diciamo, attingiamo dalla nostra eserva di cash, però è sostanzialmente, viene intermediato da una banca nel quale noi abbiamo un conto, non viene intermediato invece da quei circuiti che voi conoscete, che sono i circuiti internazionali, Visa, Mastercard, American Express, lo stesso Bancomat in Italia, ok? Quindi accanto a questo avremo ancora Visa, Mastercard, American Express e Bancomat, che costituiranno, diciamo, ancora una gestione del pagamento digitale attraverso un passaggio, che è il passaggio della carta, diciamo, di debito o di credito. Questo scomparirà prossimamente, perché accanto a questi mezzi avremo anche il QR code, cioè noi avremo il nostro telefonino che non avrà una carta dentro, ma che semplicemente si connetterà direttamente al nostro conto corrente e noi potremo fare le transazioni. Quindi vedete come è articolato il sistema che si sta presentando e vedete anche come stiamo parlando esclusivamente di, diciamo, strumenti che fanno riferimento ad una moneta fiat, cioè all'euro, d'accordo? Quindi hanno una struttura tecnologica che fa riferimento a un conto corrente, ad una carta di debito o di credito, ad un rapporto tra la vostra banca e la Banca Centrale Europea, per quanto riguarda l'euro digitale, quando sarà sviluppato. Quindi l'autunno, questo è il momento, diciamo, decisionale, importante per l'eurosistema, perché da quel momento in poi i governi daranno, o non daranno un loro ok a passare da una fase di sperimentazione molto lontana dal prototipo, ad una fase di sperimentazione invece successiva. E si può pensare che nell'arco di due o tre anni avremo la possibilità di usare l'euro digitale. Perché dicevo prima che si tratta di un tema che ha una rilevanza politica? Perché in questo momento voi vedete come ci siano dei blocchi geografici all'interno non soltanto del mondo occidentale, pensate alla Cina, pensate all'Iran, pensate agli Stati Uniti e a noi in Europa, in cui lo studio e la progettazione per creare una moneta digitale sono molto avanzati. I più avanzati sono i cinesi, gli americani stanno recuperando terreno, sappiamo che c'è, diciamo, gli indiani anche stanno lavorando e questo è naturalmente un grande tema perché voi potete pensare quanto sarà importante avere delle monete digitali forti perché queste naturalmente verranno usate poi non soltanto nell'ambito del retail, non soltanto nell'ambito delle nostre transazioni quando andiamo a comprarci qualche cosa, ma ci sarà anche un mondo di transazioni di wholesale, quindi delle grandi transazioni che avvengono tra paesi. E come vi ricordate un tempo il dollaro era la moneta più forte, l'euro più o meno ce la sta, insomma ha dei periodi di difficoltà, però è una moneta forte, pensate a quello che succederà nel momento in cui queste monete diventano digitali, quindi anche lì sarà molto importante capire come e chi per prima di questi, quale blocco, diciamo, diventerà più attivo e più capace di utilizzare la propria moneta a livello digitale nell'ambito delle transazioni mondiali. Ecco, quindi stiamo sempre parlando di monete che hanno una caratteristica fondamentale e cioè hanno la caratteristica di essere legate a un sistema finanziario governato da una banca centrale o da un insieme di banche centrali e quindi sono sostanzialmente delle monete che hanno una funzione di riserva di valore, hanno una funzione di scambio ed hanno tutta una serie di caratteristiche che le rendono stabili, che le rendono affidabili e che le rendono quindi prive di pericoli oltre ad essere gratis. Qui è il complesso equilibrio che vediamo invece per quanto riguarda le tematiche legate al mondo cyber. Abbiamo di fronte a noi, so che poi il professore entrerà nel dettaglio, però ecco, questo è un po' il complesso equilibrio che noi vediamo nell'applicazione della tecnologia al sistema finanziario. Non so se vogliamo passare da... Esatto, e poi ritorniamo dopo. Benissimo. Quindi, torniamo un attimo diciamo alla criptovaluta che non è criptovaluta, quindi che abbiamo capito che chiamiamo tutti nel modo sbagliato. Ci perdonerete se utilizzeremo ancora il termine in modo improprio, ma insomma è così che viene normalmente chiamato nel linguaggio comune. Ah sì, non si sente bene, scusate. E quindi, appunto, ritorniamo al mondo delle criptovalute. Quindi per fare una brevissima storia del punto da cui siamo partiti, sappiamo che tutto parte da questa figura quasi semileggendaria per coloro che investono in criptovalute, che è Satoshi Nakamoto, 2008, quindi nel pieno della crisi finanziaria globale, quindi in un periodo in cui c'era poca fiducia negli intermediari, nei regolatori, nasce questa valuta nuova, il bitcoin, e nasce con un intento specifico dichiarato in questo famoso white paper, che è quello di offrire un sistema di pagamento elettronico fra pari. E quindi questo era l'obiettivo che si prefissava. Adesso il professor Perotti ci aiuterà a capire se effettivamente le promesse di questo bitcoin, cioè di offrire questo sistema di pagamento elettronico fra pari, siano state effettivamente rispettate, siano state disattese, quindi qual è il funzionamento effettivo dei bitcoin, qual è il concetto di decentralizzazione che c'è dietro, di non manipolabilità, quali sono i problemi legati alla mancata regolamentazione del settore e quali sia in qualche modo il bilanciamento tra costi e benefici, costi anche ambientali, legati alle criptovalute. Quindi lascio la parola al professor Perotti. Grazie. Grazie. Questa è la risposta alla domanda dell'incontro di oggi. Io mi occuperò solo delle criptovalute e anticipo due conclusioni. Le criptovalute, per essere molto chiari fin da inizio, non svolgono nessuna funzione sociale positiva e ne hanno parecchie negative, non aggiungono nessun valore alla società, l'aggiungono ovviamente a chi le vende o a chi le usa per scopi criminali. C'è molta evidenza che le vittime delle criptovalute sono persone appartenenti a minoranze etniche in America, persone in situazione socio-economica più modesta e con poca istruzione in generale, istruzione finanziaria in particolare. Io tutte volte che incontro qualcuno appartenente al mondo finanziario colgo occasione per chiedere come funziona un bitcoin, non ho mai ricevuto una risposta a qualcuno che sappia come funziona effettivamente un bitcoin, quindi con Tito Bueri ci siamo messi a studiare e cercare di capire come funziona e qui essenzialmente riproduco quello che abbiamo scritto in due articoli per Repubblica. Credo che sia utile, perché è stato molto utile anche per noi per capire effettivamente come funziona. C'è un miner ed è importante per capire le conclusioni poi a cui giungerò. C'è un miner che è essenzialmente un proprietario di super computers che propone un blocco di transazioni da registrare e aggiungere alla catena che è la famosa blockchain. Questo blocco di transazioni da registrare diventa un input in una funzione, complicata che non sto qui a descrivere, che genera un numero, si chiama hash, ma è un numero, pensate all'hash come un numero, tra miliardi di possibili combinazioni, essenzialmente come un dado con miliardi di facce. e il primo miner che ottiene un hash, cioè un numero, inferiore a una certa soglia, che anche qui è determinata dal sistema basato sul numero di computers che partecipano, registra il blocco e ottiene un prestito che in questo momento consiste in 6,25 bitcoins, ma varia a seconda del tempo. Quindi a ogni blocco che viene proposto c'è una gara per computers, tra miners, per essere il primo che genera quell'hash che gli consente di registrare la transazione. In media questo richiede decine di trilioni di tentativi da tutti i computers partecipanti, questo spiega perché bitcoin, sto parlando solo di bitcoin tra le 20.000 criptovalute, nel 2021 ha consumato l'energia elettrica dell'Olanda, adesso ne consumo un po' meno, ma è sempre tanta. A cosa serve tutto questo? La tecnologia blockchain su cui si basa il bitcoin ha essenzialmente tre proprietà, pubblicità, anonimato e non manipolabilità. Con il software giusto chiunque può interrogare il blockchain per sapere che transazione è stata eseguita, ma non chi l'ha eseguita, quindi pubblicità ma anonimato ed è non manipolabile perché è quasi impossibile cambiare una registrazione di un blocco perché se io voglio cambiare il quarto, ultimo blocco devo poi cambiare tutti i blocchi successivi che dipendono da quello e se ricordate ogni blocco richiede trilioni, decine di trilioni di tentativi, cambiarne quattro, lo stesso supercomputer, la probabilità di cambiare tutti e quattro è decine di trilioni per decine di trilioni per decine di trilioni per decine di trilioni tutto, uno su tutta questa quantità quindi infinitesimo quindi è praticamente non manipolabile ma se voi vi chiedete a cosa servono veramente in questo campo la pubblicità e la non manipolabilità le banche non sono pubbliche le transazioni a me interessa sapere se uno di voi ha eseguito un bonifico tre giorni fa ma no e non sono certamente manipolabili quindi non c'è nessun vantaggio rispetto ai servizi che possono offrire una banca ovviamente il vantaggio è l'anonimato ma l'anonimato serve a chi ha ragioni per rimanere anonime cioè ai criminali e agli invoglioni quindi questo è il vero servizio che offre Bitcoin non c'è nessun altro ci sono altri significati che sono stati dati alle parole al manipolabilità qui è utile è questa quote di Caroline Ellison che era l'amministratrice di Alameda Research che era il fondo gemello di FTX il famoso fondo di Samuel Bankenfreid che è andato a gamber l'aria qualche anno fa che rischia 110 anni di prigione ed è interessante questa quote la leggo nella sua interezza la moneta decentralizzata cioè Bitcoin non custodita sembra essere un fondamento delle libertà civiche e se i governi autoritari sono una seria minacce alla civiltà e che sembra non totalmente insensato potrebbe finire per essere importante è una delle sentenze delle affermazioni più confuse da un punto di vista logico e sostanziale e lessicale soprattutto in inglese che avrei mai letto ma è chiaramente il risultato di un certo sottobosco libertario cospiratorio Deep State che è molto sappiamo tutti la radice di questo sottobosco in America e essenzialmente se leggete questa letteratura di questo sottobosco ci sono due caratteristiche una l'equazione banca centrale signoraggio che è una cosa che dà fastidio a queste persone ma il signoraggio non è annientato che la piccolissima tasse che lo Stato le banche centrali incassano per il fatto che hanno il monopolio delle emissioni di moneta ma al contrario di quanto la gente pensa è nelle macroeconomie moderne è limitatissima 0,2 0,3% del PIL e non è certo questo il motivo per cui le banche centrali esistono tanto più che le banche centrali per legge devono restituire tutto il signoraggio allo Stato quindi non hanno nessun interesse a aumentare il signoraggio tant'è vero che l'inflazione è sempre rimasta vicina allo 0% eccetto l'ultimo anno e mezzo la seconda interpretazione in questo termine le banche centrali agiscono come una sorta di grande fratello anche se poi se andate a scavare nessuno vi sa dire esattamente perché sarebbero sarebbero un grande fratello in che senso possono controllare la vostra attività non sono le banche centrali che sanno che sanno alla fine chi ha fatto se volessero potrebbero sapere chi ha fatto una data transazione ma avvengono miliardi e miliardi di transazioni ogni giorno naturalmente ma anche centrali non hanno interesse a controllare ogni singola transazione che cosa succederebbe in un mondo di criptovalute molti proponenti di bitcoin sostengono che alla fine lo scopo di bitcoin è di sostituire l'euro o il dollaro o qualsiasi moneta a corso legale perché è una reappropriazione da parte del settore privato di qualcosa che appartiene al settore privato secondo le loro interpretazioni ma in parte si riconducono non sempre ma in parte si riconducono a questo mito del gold standard che era sotto varie forme era in atto fino al 1931 almeno in Inghilterra ma non capiscono un punto fondamentale i bitcoin per un motivo che è completamente ortogonale alla situazione attuale e che è completamente nella testa del fondatore ma senza una particolare motivazione economica sono in quantità fissa sappiamo che al ritmo attuale non ci sarà più possibilità di mine dei new bitcoins nel 2034 2035 quindi è una quantità di moneta fissa la quantità di moneta fissa è la ricetta perfetta per una recessione permanente perché il mondo continua a crescere l'economia continua a crescere e ha bisogno di quantità di moneta che accompagnino l'economia uno dei motivi della grande depressione è che il mondo era legato alla quantità di moneta all'epoca era legata alla quantità d'oro in circolazione se non si scoprivano i nuovi miniere d'oro la quantità di moneta in circolazione rimaneva costante e questo portava alla deflazione alla riduzione dei prezzi e alla recessione i bitcoin sono la ricetta perfetta se veramente fossero estesi usati come moneta a corso legale e come moneta unica a corso legale sarebbero la ricetta perfetta per una recessione permanente ovviamente uno può dire aggiungiamo altre criptovalute ce ne sono circa 20.000 in questo momento il che voldrebbe dire che ci sarebbero 20.000 prezzi ognuno espresso in diverse criptovalute nella stesso paese cioè entrati in un negozio di verdura queste fragole ci sono 20.000 cartellini ognuno con il prezzo di un chilo di fragole nelle diversi bitcoins 20.000 criptovalute vuol dire circa 200 milioni di tassi di cambio all'interno dello stesso paese un altro punto di pubblicità dei bitcoin è che sarebbe una moneta sicura cosa vuol dire sicura può voler dire parecchie cose tutte smentite dai fatti una che è un investimento poco volatile bitcoin ha una volatilità come tutti sapete pazzesca è arrivata a perdere il 40% del suo valore in un giorno il 53% di una settimana quando bastò l'annuncio di Musk su twitter che non avrebbe più accettato bitcoin per acquistare tesla il 53% chiunque avesse acquistato bitcoin in una settimana solo per quel tweet di Musk abbia perso metà del suo investimento e quasi l'80% in un anno un'altra interpretazione del termine sicuro riferito a un asset come bitcoin è che non è soggetto a frodi a furti e smarrimenti e anche questo è smentito clamorosamente dai fatti perché è vero che la blockchain è praticamente non accherabile per i motivi che abbiamo visto ma questa è solo una piccolissima parte del rischio che incorrete se investite in bitcoin le frodi i furti e smarrimenti sono una percentuale enorme molto più che quello che succede se perdete la carta di credito si calcola che circa il 20% dei bitcoin estratti siano stati persi per sempre e non correte questo rischio con il vostro conto corrente che peraltro è assicurato le piattaforme di bitcoin sono hackerate continuo la blockchain come tecnologia no ma le piattaforme di bitcoin che sono quelle attraverso cui voi dovete passare se volete investire in bitcoin sono hackerate di continuo giusto per fare un esempio Binance che non era certo l'ultima arrivata ha perso in un solo episodio di hackeraggio 570 milioni di dollari ricordo che nessuna rapina in banca ha mai fruttato nemmeno una frazione di questo valore e tanto più che in ogni caso i vostri depositi in banca anche se fosse rapinata sarebbero assicurati tanto vero che le stesse venditori bitcoin si raccomanda di non tenerli in un portafoglio caldo cioè sul vostro cellulare che ha sempre accesso a internet ma di tenerli in un portafoglio freddo cioè su un pc offline questo per darvi idea di quanto si assicuri gli investimenti in bitcoin le stesse piattaforme di scambio oltre a essere hackerate quelle poche che sono legittime la maggior parte sono fraudolente e l'esempio classico FTX che ha perso miliardi e miliardi di dollar non ho tempo per raccontarvi lo schema che è stato messo in piedi da FTX ma è ammirevole da un certo punto di vista per la fantasia che ha usato per rubare centinaia di milioni probabilmente miliardi ai suoi clienti ma niente di tutto questo è mai stato immaginato anche dalle peggiori banche un'altra motivazione dei venditori di bitcoin che ci libererebbero dalla dittatura delle banche la cosiddetta dittatura delle banche fa sempre parte della teoria cospiratoria e libertaria che alimentano un certo humus politico e sono alimentate un certo humus politico negli Stati Uniti e anche in Italia l'idea è che le banche lo sappiamo tutti c'è questa idea diffusa che le banche siano dei parassiti e l'idea è che con i bitcoin possiamo bypassare tutto questo perché possiamo fare transazioni in qualsiasi momento o qualsiasi ore della giornata quasi istantaneamente perché le transazioni sono registrate in un nuovo blocco quasi istantaneamente tipicamente 20-30 minuti a costi minimi e ignorando distanze e confini in realtà le transazioni in bitcoin comportano commissioni enormi spesso non esplicite se andate a vedere su certe piattaforme a cui si può avere accesso anche in Italia nel cosiddetto fine print dei documenti ci sono addirittura commissioni di alcuni millesimi di punto giornalieri per ogni posizione aperta millesimi di punto giornalieri vuol dire che in un anno è una cifra enorme è una enorme differenza fra lettera e denaro cioè la differenza fra quello che costa bitcoin se lo comprate è quello che prendete se vendete bitcoins che è veramente minima o inesistente per le transazioni in euro anzi inesistente o pagate solo una commissione quando mi ha scritto questo nostro articolo con Tito Boeri ci sono arrivate tipicamente due un sacco ovviamente di insulti e due esempi che facevano tutti uno di Salvador che è un paese che ha messo a corso legale i bitcoins la motivazione non è chiara Salvador diciamo è uno dei paesi più screwed up del mondo quindi già questo vi dovrebbe dare un'idea ma la motivazione non è chiara probabilmente ci sarà di mezzo qualcosa ma la motivazione ufficiale era di favorire le rimesse degli immigranti salvadoregni i poveri migranti salvadoregni che ci sono cascati hanno perso un sacco di soldi anche perché la differenza ripeto fra lettere e denaro di quello che loro dovevano pagare i bitcoin in America in Texas e quello che poi i familiari potevano il tasso cui li convertivano nella moneta locale la differenza era enorme di fatto solo il 3% di transazioni avviene in bitcoin e quasi tutte sono per motivi criminali che è un'attività che certamente non manca in San Salvador la seconda obiezione che c'è stata fatta tipicamente è l'Ucraina l'Ucraina a un certo punto il ministero della difesa ha aperto un conto in cui si poteva versare in bitcoin per acquistare armi tutti ci dicevano questo è l'esempio del bitcoin come favoriscano la libertà l'indipendenza eccetera 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 di fatto il giorno dopo sono andato a controllare il ministero della difesa aveva chiuso questo conto in bitcoin accettava donazioni solo in dollari in euro i motivi erano parecchi uno era che le armi vere un leopard non li compri con bitcoin il secondo è che la gente che voleva disfarsi dei bitcoin che aveva già all'inizio ha versato qualche milione in bitcoin poi non è più arrivato niente il motivo è che passare dal comprare con la moneta ucrana un bitcoin costa per la differenza lettera denaro una cifra enorme esattamente per la volatilità del bitcoin il ministero della difesa stesso una volta ricevuto i bitcoin il giorno che lo riceveva valeva 3 dollari il giorno dopo ne valeva un dollaro e mezzo preferite evitare questi enormi rischi quindi tutti gli esempi i controesempi che ci sono stati fatti non uno ne potrei citare altri non uno è rimasto a un examen più approfondito un'altra difesa dei bitcoin è che è uno strumento accessibile a tutti e questo purtroppo è uno dei motivi anzi il motivo principale per cui ha fatto tante vittime fra le minorities americane perché per loro è innegabile che il sistema bancario americano non sia praticamente amichevole con le minorities per motivi storici bitcoin è una forma di rivalsa e soprattutto offre un miraggio di un arricchimento facile e veloce che purtroppo invece è quasi sempre un impoverimento tutte le surveys e le indagini che sono state fatte confermano che la stragrande maggioranza di investitori in bitcoin non ha la minima idea dei rischi a cui va in conto quando investe in bitcoin l'ultimo punto che voglio fare è un altro punto di difesa di bitcoin da parte dei suoi sostenitori ed è l'idea che i bitcoin forse ne esistono anche quando viene meno la fiducia della pubblica nelle monete emesse dalle banche centrali e questo è dovuto a una profondissima incomprensione di come funziona un sistema monetario moderno i nostri biglietti da 10 euro un tempo c'era dietro oro fino al 1931 un biglietto da 5 sterline della banca d'Inghilterra diceva al portatore di questo biglietto garantiamo di poterlo convertire in tot grammi o pounds o whatever di oro dal 1931 in Inghilterra non è più possibile certamente questo non è più possibile nelle economie moderne la nostra moneta non ha niente dietro cioè niente non è neanche vero perché c'è tanti c'è tanti c'è tanti c'è tanti assets comprati attraverso il convention ma non è backed ufficialmente da nessun asset nel senso che non possiamo sostituire se vogliamo andare in banca d'Italia ci può sostituire con un altro biglietto a 10 euro non con altre attività con altri assets questa differenza fondamentale con il gold standard gold exchange standard quindi è sostenuto dalla fiducia il fatto il panettiere accetta il 5 euro perché sa che poi andrà dal parrucchiere e potrà usare quel biglietto a 5 euro il parrucchiere lo accetta perché potrà andare al cinema e usare quel biglietto a 5 euro questo è quello che sostiene le monete moderne si chiama fiat money per questo è una fiducia collettiva ovviamente in teoria può mancare i sostituitori bitcoin dicono questo problema non esiste che venga a mancare la fiducia su cui poi voglio tornare perché non c'è bisogno di fiducia tra esseri umani perché tutto quello di cui c'è bisogno è l'incentivo monetario perché un processore computer vada a fare il mining di un bitcoin la realtà è che poi una volta che il bitcoin è stato mined qualcuno deve volerlo detenere questo è quello che si dimenticano e se nessuno lo vuole detenere va a zero tanto è vero che i bitcoin oscillano anche del 40% in un solo giorno cosa che ovviamente non è mai capitata a una moneta del mondo occidentale la realtà è che non c'è nessun rischio di attacco di sfiducia collettiva delle moderne monete l'unico esempio nelle economie occidentali è stato l'iperinflazione tedesca in tutte le iperinflazioni a un certo punto ci avviene il fenomeno di dolorizzazione nessuno vuole più detenere i marchi perché tra il momento in cui li guadagnate in cui in date dal fottivendo a spenderli l'iperinflazione si è già mangiata il 50% dell'euro all'ore detenete i dollari quello è l'unico esempio in cui una moneta emessa da uno stato sovrano nel mondo occidentale ha perso la fiducia dei suoi cittadini ovviamente questo non è un rischio che si corre l'euro la sterlina il dollaro in questo momento le criptovalute invece come sappiamo sono esattamente il contrario sono esposte al minimo rumor abbiamo visto che va stato un tweet di Elon Musk per far andare giù del 40% in una settimana grazie io ho finito grazie al professor Perotti quindi appunto tutto abbiamo chiuso col tema diciamo della fiducia la Fed qualche giorno fa ha pubblicato un rapporto sulle scelte di consumo e di investimento delle famiglie americane e c'era una sezione sulle criptovalute e anche da quel rapporto emerge che in realtà una frazione irrisoria di coloro che detengono le criptovalute le utilizzano effettivamente come mezzi di pagamento ma in realtà sono utilizzati come asset speculativi e quindi la posizione diciamo radicale che emerge diciamo da questa presentazione in realtà è condivisa da molti organismi di controllo e di regolamentazione Panetta della BCE ha espresso le sue diciamo le sue preoccupazioni rispetto al fatto che appunto siano asset speculativi e che quindi siano esposti per lo più soggetti vulnerabili che non hanno particolari conoscenze che possono quindi da un giorno all'altro perdere tutto quello che hanno nelle loro mani con conseguenze sociali e il presidente della Consob Savona addirittura ha invocato diciamo una nuova Bretton Woods perché appunto per la necessità di una regolamentazione di una regolamentazione forte è vero che le banche centrali però si può dire che alla tecnologia sottostante le criptovalute diciamo che strizzano l'occhio se non qualcosa di più quindi bisogna distinguere l'uso della tecnologia dalla tecnologia stessa perché la tecnologia blockchain può avere delle potenzialità che possono essere sfruttate ovviamente il suo svantaggio forte il fatto che adesso comunque è in procinto di essere regolamentata ma ancora sfugge in qualche modo diciamo a una regolamentazione stretta e quindi da qui la mancanza di fiducia rispetto alle attività che utilizzano questa forma questa tecnologia quindi chiederei appunto alla vice direttrice Perrazzelli di aiutarci a capire un po' di nuovo questo equilibrio la tecnologia di cui stiamo parlando bisogna tenere insieme tante cose e quindi bisogna cercare in qualche modo di valutare le opportunità ma le vulnerabilità sottostanti diciamo alla tecnologia stessa e quindi cerchiamo di capire come in qualche modo si possono utilizzare quello che di buono c'è diciamo dell'esperienza delle criptovalute per farne qualcosa che possa migliorare i mercati finanziari che utilizziamo Sì grazie prima di arrivare lì però vorrei dire che dietro alla banconata di 10 euro c'è l'eurosistema cioè c'è un sistema di banche centrali che naturalmente non è vero che non c'è niente c'è un sistema che regola la politica monetaria di un continente e quindi voglio dire è vero che se vieni da noi non ti diamo un mallopetto d'oro però puoi stare sicuro che quella banconata ha un valore ha un valore legale ha quella capacità di acquisto e quindi voglio dire è assolutamente sicura rispetto a quello di cui stiamo parlando parlando oggi allora quindi da quello che il professore ci diceva noi ci stiamo muovendo in un mondo estremamente opaco la cosa importante da dire è che noi quando parliamo di blockchain in Banca d'Italia pensiamo che non sia assolutamente né un mezzo di pagamento e neanche una forma di investimento è semplicemente speculazione è gambling e chi lo fa lo deve fare ben conoscendo il fatto che se le cose vanno male non c'è un rimedio non c'è la garanzia di riconvertire poi tutto in euro in dollari o nella moneta diciamo locale e questo deve essere detto molto chiaramente un conto però è questo e poi parleremo anche del suo uso che viene fatto a livello criminale in questo momento le procure del nostro paese ma le procure di tutto il mondo hanno un bisogno estremo di competenze di persone che possano andarli ad aiutare proprio per capire per esempio come avvengono determinati trasferimenti di criptovalute come vengono utilizzate le piattaforme perché naturalmente tutto questo avviene nell'ambito di una sede di una ragnatela enorme di piattaforme tecnologiche che sono interconnesse tra di loro quindi questo è un tema enorme pensate a come è diventato molto meno per noi che facciamo il lavoro di regolatori di supervisori del sistema finanziario andare in qualche modo a identificare chi fa riciclaggio e come lo fanno attraverso l'utilizzo di criptovalute attraverso delle piattaforme integrate prima era facile sostanzialmente che si andava a retracciare da un punto A a un punto B banca-banca o individuo-banca quindi era una rete non così complessa oggi invece queste transazioni avvengono attraverso delle reti che sono connesse l'una dall'altro e non si molto spesso riesce a identificare chi ha inviato originariamente qual è poi il detenuto colui che ne beneficia diciamo il beneficiario finale quindi noi ci troviamo di fronte a questo mondo come banca centrale le banche centrali hanno la funzione di regolare il mercato quindi noi interveniamo con una regolamentazione di secondo livello quindi sotto agli organi legislativi del paese e poi abbiamo anche una funzione autorizzativa vengono da noi per farsi autorizzare per prestare determinati servizi di pagamento o anche bancari nel nostro nel nostro paese ecco qui questa nostra funzione ci ha portato a dover capire un pochino meglio qual è la tecnologia sottostante perché benissimo la definizione e la descrizione è assolutamente puntuale di come funziona un bitcoin però tutto questo è poggiato su una serie di tecnologie che ricadono nell'ambito di quelle che probabilmente voi avete sentito si chiamano le tecnologie DLT quindi le tecnologie che fanno riferimento a dei registri sostanzialmente nei quali queste operazioni vengono registrate ecco questa è una tecnologia di per sé non fatemi dire cattiva cioè non è la tecnologia pericolosa ma è l'uso che ne è stato fatto attraverso l'applicazione appunto per creare bitcoin quindi quello che noi stiamo facendo in Banca d'Italia in questo momento è proprio quello di andare a studiare a fondo le tecnologie DLT attraverso una serie di iniziative che noi facciamo con bandi di gara quindi chiediamo al mercato sostanzialmente di proporci dei progetti in modo da poter capire se riusciamo a identificare dato che il mercato finanziario sempre più sta chiedendo la possibilità di utilizzare tecnologie per fare servizi di pagamento per fare servizi bancari come possiamo regolare tutto questo come possiamo in qualche modo utilizzare capire di utilizzare la tecnologia per migliorare i servizi e per limitare invece gli usi diciamo così che vanno poi in qualche modo a far diciamo non soltanto male alle persone ma anche alla stabilità finanziaria del nostro paese del nostro continente tutto questo avviene in un ambito eurosistema naturalmente d'accordo quindi questo è un po' quello che stiamo facendo esiste una normativa qui vedete questi sono sostanzialmente su questa slide l'equilibrio nel quale che non si 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 vede si si la slide che sostanzialmente dice un po' dove ci troviamo noi quindi questa è la tecnologia da un lato abbiamo tutti i rischi abbiamo rischi che sono rischi operativi ecco che cosa succede ad una banca se comincia a detenere tutta una serie di valute cripto come non so quale deve essere la percentuale che può detenere di fronte a un problema bancario come può utilizzare questo tipo di garanzie chiaramente è estremamente pericoloso quindi questo è un fatto che noi stiamo cercando di limitare ci sono poi tutti i problemi di cui vi dicevo prima di riciclaggio che sono veramente credetemi in questo momento estremamente complessi noi abbiamo avviato un'attività proprio di sostegno alle procure del nostro paese per cercare anche di prestare i nostri tecnici per poterli aiutare a sostanzialmente a gestire questi flussi c'è un problema di attacchi cyber naturalmente perché allora tutto questo avviene tutto ciò di cui stiamo parlando avviene su diciamo l'utilizzo sempre più massiccio di reti tecnologiche che sono interconnesse tra di loro vediamo anche spesso che ci sono banche che non riescono a gestire loro stessi questo diciamo avere un supporto tecnologico importante spesso per esempio usano terze parti si fanno aiutare da grandi società di IT o grandi diciamo providers di tecnologia di vario tipo che cosa succede? succede una grande concentrazione di mercato quindi sostanzialmente ci sono alcune società di IT che detengono un potere enorme perché gestiscono contratti con tutta una serie di operatori se c'è un incidente cyber in una di queste c'è un incidente cyber che coinvolge tutto il sistema e quindi è rinnovato il nostro sforzo di capire con l'autorità nazionale che si occupa di questi incidenti quali possono essere i pericoli come li possiamo contrastare in questo momento ci stiamo domandando se non dobbiamo avere una specie di mega registro alternativo in cui si detiene tutto però allora ci sono tutti problemi di privacy che sono molto difficili da essere superati e poi c'è un tema di stabilità finanziaria allora pensate se oggi una banca centrale sa sostanzialmente che valore ha il risparmio di un paese d'accordo quindi noi sappiamo cosa c'è nelle banche sappiamo qual è la base diciamo sul quale il paese è forte è resiliente quando interveniamo con degli strumenti di politica monetaria noi sappiamo di cosa stiamo parlando abbiamo i conti diciamo abbiamo il libro dei conti davanti a noi molto chiaramente se si comincia ad investire invece in 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 crypto assets perché io valute non le voglio chiamare quello è un mondo che sfugge cioè noi non lo controlliamo più è vero che non c'è più controllo ma cui prodest cioè nel senso di un bank run in un problema in un problema come quello che è avvenuto adesso negli Stati Uniti l'unica cosa che hanno potuto fare è stato metterci soldi però voglio dire lì c'era chiaramente una mancata c'erano tanti problemi in realtà però c'era anche una mancata diciamo percezione di quelle che potevano essere le esposizioni e come venivano garantite quindi anche per la stabilità finanziaria questo è un tema è un tema enorme allora a livello di di opportunità c'è sicuramente un tema di riduzione dei costi c'è sicuramente una maggiore tracciabilità ma c'è sicuramente un tema di accessibilità in parte anche di inclusione finanziaria dipende come tu usi questo tipo di diciamo di tecnologia ed è per questo che noi vogliamo emanare lo stiamo facendo lo sta facendo l'Europa con questo regolamento mica lo abbiamo fatto noi prima dell'entrata in vigore di questo regolamento con una comunicazione perché avevamo sempre di più richieste da parte delle banche possiamo detenere diciamo assets digitali nell'ambito dei nostri portafogli sì o no come lo possiamo fare in che percentuale abbiamo cominciato a dialogare proprio perché vogliamo che se questo l'apporto tecnologico alla finanza come chiaramente è è un processo che non può venire in qualche modo diciamo stoppato o fermato ma non deve essere così però va fortemente regolato il problema di tutto questo è che la regolamentazione non può essere una regolamentazione di un paese o di un'area o dell'Europa soltanto noi abbiamo un sistema di regole in Europa che ci permette tutta una serie di tutele come consumatori e che permette anche alle banche dato che i requisiti di capitalizzazione che l'eurosistema ha implementato nel corso di questi anni voi vedete che quando è successo quello che è successo negli Stati Uniti ecco in Europa non ci sono stati contagi è sempre una cosa molto delicata il governatore della Banca d'Italia e io stessa abbiamo detto pubblicamente che il nostro è un sistema molto saldo ed è così ma perché perché siamo intervenuti in tempi non sospetti con una regolamentazione le banche si sono sempre lamentate però oggi le nostre banche non hanno mosso un dito in più abbiamo un sistema di sorveglianza di analisi dei rischi a cui le banche sono esposte che noi monitoriamo continuamente questo non accade per esempio negli Stati Uniti dove le banche sottosoglia cioè le banche che sono considerate piccole che sono più grandi delle nostre grandi hanno un sistema di per esempio di analisi dei rischi si chiama SREP questa metodologia che viene fatta con una forma di autocertificazione sostanzialmente e quindi voi capite bene che è un sistema sostanzialmente dove è stato consentito a queste banche di lavorare in ambiti estremamente pericolosi come quelli di finanziare tutto lo sviluppo di bitcoin e tecnologie applicate e non sono stati invece introdotte quelle norme avete letto sui giornali la famosa Basilea 3 che è nient'altro che una norma che ti dice sostanzialmente quanto capitale devi avere a fronte di tutta una serie di rischi e come misuri questi rischi ecco queste norme negli Stati Uniti non sono state adottate quindi oggi noi dove ci troviamo cioè dove siamo dicevo prima al professore che ci arrivano delle richieste di autorizzazioni che rimaniamo lì tutti abbastanza cioè cerchiamo di capire che cosa sono queste realtà che vengono da noi perché non sono banche non sono sistemi di pagamento c'è molta confluenza che nasce naturalmente da tutto il sistema dei social che si avvicina al mondo finanziario allora fino ad adesso cosa abbiamo detto abbiamo guardato ai rischi se i rischi sono gli stessi le regole devono essere le stesse quindi se tu porti nel nostro paese un sistema che sostanzialmente mette a rischio i consumatori mette a rischio la stabilità le regole sono queste e si applicano ma non sempre è così e non necessariamente è così ovunque ci sono dei paesi nei quali è più semplice avere delle autorizzazioni Binance un po' di mesi un anno e mezzo fa Binance era venuto in Europa e aveva fatto un po' il giro di tutte le banche centrali chiedendo sostanzialmente di essere autorizzato e l'Italia non l'ha fatto l'ha fatto la Francia adesso sono corsi ai ripari e gli hanno tolto anche quello che gli avevano dato però la nostra analisi per esempio di Binance era un'analisi estremamente molto molto cauta perché avevamo visto sostanzialmente quello che facevano altrove quali potevano essere i rischi per la nostra stabilità finanziaria quindi questo è quello che noi stiamo interfacciando in questo momento e vorrei dire un'altra cosa che è molto importante e che io credo che sia poi un nostro compito infatti ci stiamo lavorando tanto tutto questo naturalmente ha diciamo il Bitcoin la scommessa che viene fatta le cose che passano sui telefonini diciamo la facilità con cui si 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 vende questo tipo di investimento di easy di guadagni facili eccetera naturalmente trova una popolazione non competente a capire i rischi questo è il tema centrale cioè è un tema di strumenti l'aumento della povertà nel nostro paese che si è avuto negli ultimi anni non è soltanto un tema di povertà economica è anche una povertà culturale è una povertà diciamo che tocca tanti tanti ambiti e che va assolutamente contrastata chi ha poco reddito deve sapere come utilizzare in maniera saggia quel reddito molto spesso queste vengono indicate come dei profitti facili investimenti senza problemi facili da fare col telefonino non devi andare da nessuna parte e firmare nulla sostanzialmente non è così chi gioca a questi giochi gioca senza rete e questa è una cosa che deve essere detta in maniera molto chiara oggi l'educazione finanziaria va fatta di pari passo con l'educazione digitale perché sempre di più noi utilizzeremo i supporti digitali per avere accesso a un mutuo per avere accesso a qualsiasi cosa non è soltanto un tema di pagamenti è anche un tema proprio di tutte quelle attività bancarie che oggi fino ad oggi abbiamo svolto in maniera diversa vi ho detto dell'euro digitale e ecco io vorrei vorrei chiudere dando un po' di ecco no diciamo questa era l'ultima e vorrei chiudere insomma dicendo sostanzialmente questo c'è un grande c'è questo grande tentativo di cui il professore ha parlato di demonizzare le banche di demonizzare le banche centrali eccetera io vorrei però dirvi che noi europei viviamo un sistema estremamente controllato è molto sicuro ed estremamente più inclusivo rispetto a quello che viene vissuto in altre parti del mondo io questo ci tengo molto a dirlo ci tengo a dirlo perché io faccio parte sono il membro italiano del supervisory board quindi io guardo tutte le banche europee e lo sforzo che noi facciamo è uno sforzo di mantenerle stabili di spingerle verso l'innovazione di cambiare e quindi di fare proprio tutta una serie di strumenti nel rispetto però di questi principi fondamentali che sono principi di stabilità e principi sostanzialmente anche di coesione all'interno dell'eurosistema e queste sono delle cose molto importanti da ultimo l'inclusione questo è un tema che è diciamo sempre nella prima riga diciamo dei nostri interventi siamo preoccupati del fatto che ci possa essere un utilizzo della tecnologia a discapito dei più deboli e delle più deboli il nostro paese in quest'ultimo anno ha subito diciamo la curva di povertà è cresciuta le famiglie con un solo genitore con uno stipendio precario sono cresciute ecco molto spesso queste persone sono diciamo i target principali di questo tipo di speculazione quindi ci tengo a dire che è un tema per noi estremamente importante grazie allora io ringrazio Alessandra Perrazzelli e Roberto Perotti per questo dialogo li ringrazio per questa lezione di educazione finanziaria perché secondo me è stata molto utile credo che abbiano offerto molti spunti quindi se dal pubblico ci sono domande dubbi apriamo il dibattito qualcuno che forse col microfono ci può dare una mano grazie arriviamo volevo chiedere se ha senso fare il paragone fra un mercato nero però legale perché in realtà mi sembra che sia comunque legale e il mercato delle criptovalute se ha senso fare un mercato nero legale fare un paragone tra il mercato nero legale diciamo non so bene un paragone tra il mercato nero legale e le criptovalute e questa è la domanda è una bella domanda ma intanto il mercato nero legale non so bene 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 non mi spiego meglio intendevo dire mi sembra che il mercato delle criptovalute non sia illegale attualmente sia legale mi sembra il mercato delle valute delle criptovalute attualmente non sia illegale quindi non sia un mercato nero però dalla descrizione che ne avete fatto sembra che ci siano parecchie similitudini con un mercato nero per cui mi chiedevo se il paragone fra il mercato delle criptovalute e il mercato del sommerso il mercato nero ha un senso oppure se sono due cose talmente diverse che non ha senso parlare di mercato nero io posso se vuole posso allora guardi la differenza fondamentale tecnologica cioè nel senso che il mercato diciamo del sommerso che si basa sul cash circolante è un mercato enorme oltretutto a livello mondiale gestito dalle mafie e sostanzialmente che si basa ancora su delle transazioni punto punto cioè sono transazioni che avvengono tra una persona una banca una banca una banca quello che vi dicevo prima cioè molto più facili da intercettare ed infatti in qualche modo poi queste intercettazioni avvengono il mercato delle cripto che non è regolato perché adesso questo sarà un mercato regolato quello che dicevo prima sta entrando in vigore una serie di norme quindi ci saranno una serie di norme che lo regoleranno in questo momento è un mercato di fatto irregolato estremamente opaco dove le transazioni non avvengono più fisicamente o non avvengono più punto punto ma avvengono su un web proprio su una serie di reti che sono interconnesse tra di loro quindi quello che stiamo vedendo in questo momento perciò che parlavo di procure io prima è che sempre di più entrano nel mondo diciamo della malavita delle grandi mafie tutta una serie di competenze tecnologiche perché attraverso la creazione di tutti questi sistemi di reti riescono a muovere denari con una velocità straordinaria quindi non è soltanto un mercato di bitcoin ma è anche un mercato diciamo di monete fiat quindi estremamente diciamo strutturato e opaco sotto alla coltre diciamo di quello che noi vediamo professore non so se lei adesso che capisco meglio la domanda sono d'accordo con lei essenzialmente bitcoin li può usare per fare vengono usati per fare investimenti con la speranza di fare guadagni facili sappiamo che vanno a finire quelli che fanno questi investimenti ed è legale ed è purtroppo succedeva che succede possono essere usati per fare transazioni comprare oggetti o pagare i pochi ristoranti che l'accettano anche questo è legale e non è mai decollato per motivi ovvi e terzo possono essere fatti per motivi che dice lei cioè esattamente equivalenti al sommerso per finanziare il sommerso per finanziare le transazioni nel sommerso proprio prendendo avvantaggiandosi di quella caratteristica che è l'anonimato c'è uno studioso di Harvard Ken Rogoff che sostiene da anni una cosa verissima che l'unica vera funzione dei criptovalute è l'anonimato e l'unico motivo per cui uno vuole usare l'anonimato a tutti i costi è perché è un criminale quindi l'unica vera funzione dei criptovalute è di alimentare la criminalità questa è la verità buongiorno vorrei soltanto fare una domanda riguardo il commento che ha detto che appunto come anche adesso le criptovalute non hanno una funzione sociale positiva io non sono pienamente d'accordo riguardo proprio perché comunque tutte le grandi fondazioni e le grandi istituzioni che si sono fondate grazie allo sviluppo di queste nuove criptovalute come ad esempio la fondazione di Ethereum che è quella più grande a livello internazionale e quella fondazione lì però si sta ponendo proprio come principio ideale e principale quello di cercare un modo per finanziare i beni comuni e gli investimenti per preservare i beni comuni che sono quelli che ora ci stanno creando più problemi a livello geopolitico mondiale piuttosto che invece stanno cercando di sviluppare dei sistemi di società che sono le DAP e le DAO che invece sono sistemi che hanno lo scopo di raccogliere sì fondi da privati e non dal pubblico ma che soprattutto possono dare la garanzia che questi fondi possono essere investiti esattamente nei contesti in cui nel white paper originale cioè in questo contratto si siano raccolti i soldi proprio per quelle determinate attività piuttosto che altri contesti come ad esempio la finanza decentralizzata che permette ad esempio il peer-to-peer lending che quindi sono prestiti diretti tra cittadini privati che non abbiano quindi la necessità di avere un intermediario di mezzo che prevalentemente principalmente prima di questa grande rivoluzione chiedeva le commissioni e da questo momento in poi non si può più permettere di chiederlo proprio per questo contesto io trovo che ci siano molti contesti che voi non avete fatto vedere proprio perché rappresentate il mondo accademico il mondo del policy making mentre il mondo del mercato delle criptovalute io non lo vedo qui e io non vedo soprattutto questo entusiasmo di quei giovani che in questo cambiamento ci credono e che non vedono nelle istituzioni una volontà di cambiare ma piuttosto una paura di vedersi rubato il posto no 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 certo certo io appunto io sto no vorrei chiudere posso chiudere solo il discorso chiudo il discorso un attimo quelle persone che hanno investito in bitcoin che hanno investito in ethereum o in tutte le grandi criptovalute tra di loro ci saranno dei delinquenti come credo ci siano i delinquenti che sono i più grandi ricchi immagino in questo mondo che detengono euro dollari e quelli lì come diceva lei dei grandi cartelli della droga io intendo dire semplicemente che è un nuovo mondo in cui tante persone ci stanno credendo tra quelle persone come in tutto il resto del mondo ci sono una piccola parte di contesti marci ma che tutte quelle altre persone sono persone e quelle persone ci credono tutto lì no però non puoi confondere chi li vende e chi li compra esatto no no appunto cioè l'imbruglione sono chi li vende che sono pochi non è che stiamo dicendo che tutti i poveracci che sono stati imbrugliati dai venditori sono un contesto marcio non puoi confondere le due cose ci sono i venditori che si avvantaggiano dei compratori i venditori sono pochi i compratori sono tanti per fortuna dei venditori e per sfortuna dei compratori sì ma il venditori la banca centrale non vende niente non vende niente però sul primo punto che facevi era una logica un po' contorta quella di dire siccome queste persone anche Samuel Bunkman ha fatto tanti soldi è una fondazione che ha dato tanti soldi a una particolare a una particolare tipo di ricerca sull'artificial intelligence sui rischi dell'artificial intelligence però è una logica un po' contorta dire siccome questi qui hanno fatto poi della beneficenza di vario tipo allora hanno una funzione sociale perché è come dire un mafioso che fa la donazione alla parrocchia tutto sommato allora la mafia ha una funzione sociale è una logica molto contorta questa no ho capito ma era un parallelo a quello che stavo facendo cioè non puoi dire siccome hanno fatto delle cose buone con i soldi che hanno guadagnato secondo noi illegalmente secondo te non illegalmente allora hanno una funzione sociale questa non è una logica accettabile no però però posso allora guarda hai detto tante cose che dovremmo di cui dovremmo parlare una per una così come per esempio il peer to peer lending che è estremamente interessante che sta avendo un qualche successo anche lì stiamo cercando di aiutare che avvenga veramente tra peer and peer perché molto spesso invece anche questo strumento viene usato in maniera distorta quindi allora la tecnologia che noi stiamo vedendo vogliamo che venga applicata ma che venga applicata tutela tua mia ok spero che un giorno sia tu a occuparti di queste cose al posto mio e spero presto però quello che ti voglio dire è che esiste una un ambito diciamo di utilizzo di tutta questa tecnologia decentralizzata che non sta facendo il bene del mondo quindi è il nostro dovere dividere e separare queste cose proteggere e incentivare quindi mi rendo conto che alla tua età può sembrare veramente una cosa che non può essere coniugata però è esattamente questo quello che noi dobbiamo fare incentivare e proteggere quindi ci saranno delle realtà che non possono avere spazio perché sono delle realtà che semplicemente sono criminose ci saranno invece delle realtà e ti dico tu hai menzionato peer to peer anche crowdfunding per esempio è tutto adesso è stato disciplinato è stato disciplinato perché anche lì quello non è su blockchain può d'accordo però può anche lì per esempio stiamo anche guardando a delle applicazioni che vengono fatte tecnologiche per crowdfunding in questo momento abbiamo dieci progetti di DDLT che stiamo studiando in Banca d'Italia ed è gente che ha la tua età che la sta studiando proprio per capire come questa tecnologia può avere un'applicazione safe d'accordo? quindi usciamo fuori per favore da questa mentalità i buoni i cattivi i ricconi quelli che cool down esiste un tema di del ruolo che noi abbiamo di protezione del nostro sistema che non è necessariamente il mantenimento dello status quo noi vogliamo che questa tecnologia venga applicata e vogliamo che le tecnologie vengano comprese nella loro espressione nelle loro opportunità in tutto quello che di buono possono fare anche per l'inclusione finanziaria per l'accesso per tutto però non confondere per favore i piani e non pensare che ci siano tutti i giovani che vogliono fare cose bellissime e tutti i vecchioni che invece vogliono bloccarle non funziona così ok? però stella non sono cripto ma non non è soltanto una funzione sociale delle che allora io sono d'accordo col professore e ho difficoltà a vederla la funzione sociale delle criptovalute anche perché le fondazioni che tu hai menzionato guarda ti faccio l'esempio abbiamo studiato a fondo la fondazione che voleva fare facebook si chiamava Libra un tempo poi diventata di ti assicuro che lì dentro di meritevole c'era c'era molto c'era molto poco e infatti non è andata da nessuna parte Ethereum sono stati un pochino più bravi benissimo d'accordo allora vediamo che cosa riusciranno a sviluppare per quanto tempo riusciranno a mantenere la loro capacità diciamo questo lato di di ricerca sul mercato a fronte di questo però ti do la notizia che ci sono n centri di ricerca n banche centrali che si rompono la testa su questa roba qui per permettere una maggiore applicazione di tecnologia una maggiore inclusione una maggiore possibilità proprio di di avere accesso a questi strumenti in maniera però sicura ok ma poi ne parliamo guarda anzi poi ci vieni a trovare così vedi che facciamo grazie allora premetto che non sono un complottista né un libertà liber liber liberitario insomma come è stato definito questi un po' estremisti del bitcoin cerco di essere pragmatico allora intanto è stato fatto uno studio che dice che la percentuale di utilizzo del bitcoin per transazioni illegali è dello 0,5% ok quindi non sono d'accordo con il professore che dice che l'unica motivo è tenerlo anonimato perché dietro ci sono delle illegalità e sono perfettamente d'accordo con dottoressa che la regolamentazione sia vitale per garantire sicurezza a chi si approccia e così pure anche la formazione culturale finanziaria assolutamente però vorrei proporre una chiave di lettura un pochino diversa da quella un po' criminogena che ho visto oggi ed è questa bitcoin vive da 13 14 anni lo hanno dato per morto più volte in questo momento c'è chi lo dà per morto è risalito del 50% forse anche di più dall'inizio anno quindi tanto morto non è perché 14 anni sono tanti e sicuramente ha vissuto delle volatilità ben più marcate di altri asset però la linea tendenziale è in salita e quindi qualche motivo di bontà di spessore ce l'ha io vorrei vorrei chiedere se questa visione può avere un senso per giustificare questa crescita ieri sono andato da professor Nudini e ho cominciato a leggere il suo libro c'è un dato immensamente preoccupante il debito delle monete sovrane sia dei paesi autoritari che dei paesi occidentali equivale a tre volte il prodotto interno lordo mondiale viviamo su una montagna di debiti privato e pubblico questi debiti sono sostanziati dalle monete ok no non è così allora se fosse così ma questo ho letto cioè l'economia il sistema economico ha bisogno di produrre monete continuamente di stampare monete e quindi le monete sovrane continueranno a perdere valore dall'altra parte c'è un bitcoin che è limitato nel numero forse qualcuno dice ma io metto una mia affiscia su bitcoin perché io a queste monete sovrane e a questa economia che continuano a stampare le monete non ci credo più vorrei un'interpretazione su questo pensiero velocissimi perché abbiamo veramente due minuti per chiudere se toglie l'ultimo anno e mezzo in cui c'è stata inflazione da energia e cibo qual è stata la tassi o medio di inflazione assicurata dalla ICB negli ultimi 12 anni tra lo 0 e l'1% questa è la perdita di valore se lei ha un euro in tasca per l'inflazione ha perso l'1% in media all'anno la BCE ha stampato la moneta necessaria per finanziare l'economia che cresce 2-3% in termini reali ogni anno il rapporto fra moneta e PIL è pressoché costante entrambi aumentano circa il tasso del 2-3% e la dimostrazione che è pressoché costante è il fatto che l'inflazione a parte che sull'ultimo anno e mezzo per motivi contingenti è rimasta piazza quindi il debito lei potrebbe avere una montagna di debito perché io mi indebito con lei lei si indebita con lei lei si indebita con noi eccetera e la quantità di moneta rimane costante il debito e la moneta non sono necessariamente se stiamo parlando di Venezuela Venezuela lì per inflazione perché ha creato una quantità spaventosa di moneta per motivi politici perché è un paese al collasso lì per inflazione come ho detto prima i paesi occidentali ne hanno sperimentata una sola però la banca centrale europea quella americana quella inglese eccetera hanno assicurato una stabilità del livello dei prezzi quasi assoluta e direi benefica perché 0% di inflazione fa male 1% 2% è il minimo senza ricorre a quella che né a signoraggio è asperato né a stampare moneta per il gusto di stampare semplicemente per finanziare la crescita dell'economia sul punto dello 0,5% bisogna distinguere tra numero e valore perché il numero delle transazioni legali da 5-10 euro può essere molto alto ma le transazioni illegali si parla di milioni e di miliardi per cui in valore piuttosto che in numero le transazioni illegali sono ben più dello 0,5% il fatto che il bitcoin abbiano aumentato il valore recentemente il fatto che uno che l'ha investito nel novembre del 21 ci ha perso una barca di soldi molto più dell'1% di inflazione adesso il 10% di quello che ha tenuto gli euro sul fatto che i bitcoin aumentino di valore siano aumentati rispetto all'inizio ci possono essere tante interpretazioni ma la più plausibile dato che non volgono nessun valore sociale né per lei né per me né per quasi nessuno in questa stanza immagino è che come tutte le bolle io compro come si compravano i tulipani c'è la famosa cosa dei tulipani in Inghilterra nessuno gli affrecava niente dei tulipani ma uno comprava i tulipani nel 1630 perché sperava di rivendolo al successivo a un prezzo un po' più alto cercando di non essere quello che rimane col cerino in mano le bolle sono queste un tempo duravano poco adesso ci sono miliardi di persone che vi partecipano al tempo della bolla del tulipano c'erano mezzo milione di inglesi e centomila olandesi adesso ci sono miliardi di persone potenziali che alimentano questa bolla però il fatto che cresca di valore peraltro rispetto all'euro è scesa di valore quindi bisogna vedere rispetto agli asset alternativi il fatto che sia sempre lì che non sia finita a zero primo perché non finirà mai a zero questo glielo posso garantire perché finché ci sono attività criminali che lo usano lo terranno su da zero il fatto che non va da zero non è una dimostrazione della funzione sociale che insomma è una dimostrazione che c'è qualcuno che lo terrà sempre su che sono i criminali le attività criminali e poi c'è anche il fatto che ci sono degli investitori come dicevamo prima minorities persone facilmente aggirabili che di fronte soprattutto alla crisi finanziaria continuano a pensare che il loro amico si è scottato ma loro questa volta qui non si scotteranno si scottano anche loro il loro amico penserà che non si scotterà si scotterà a sua volta eccetera ma l'afferta potenziale di queste persone che sono facilmente aggirabili consiste in miliardi di persone tra cui l'intero continente subcontinente asiatico dove le criptovalute stanno proliferando scusate dobbiamo chiudere la sessione mi spiace grazie a tutti per essere intervenuti grazie alla relatrice e al relatore per l'interessante dialogo grazie a lei grazie a tutti grazie a tutti